Bitonto-Cerignola, ora tocca a voi. Saranno decisamente puntate sul Città degli Ulivi le attenzioni degli osservatori della terza giornata del girone H del campionato di Serie D in programma nel pomeriggio di domenica. Quello tra gli uomini di Pizzulli e quelli di Bitetto è un vero e proprio big match. I linoverdi, dopo il buon pari nell'esordio a Taranto e il rotondo 5-0 rifilato al Pomigliano, hanno raggiunto l'apoteosi con lo storico successo di Coppa Italia a Bari che li ha proiettato in una dimensione forse più alta rispetto alle aspettative. Pizz e compagni sono pronti a giocare un brutto scherzo alla superfavorita del girone che arriva però al match con tanta voglia di riconquistare i tre punti. Il pari interno con il Sorrento ha lasciato qualche rammarico nei giallo blu con tanto di coda polemica per un gol annullato ingiustamente nel finale a Foggia che sarebbe valso il bottino pieno. Consapevole delle difficoltà della sfida ma anche delle potenzialità dei suoi si è mostrato nel prepartita il tecnico del Cerignola, Dino Bitetto. Ci arriviamo con la giusta dimensione della squadra che vuole tenere sempre il massimo, sappiamo benissimo di giocare di contro un avversario in forma come dicevi tu, tra l'altro anche un avversario in forma fisicamente anche perché vedendo qualche immagine loro sanno stare molto bene in campo e poi sono di una grande vivacità sia individuale anche collettiva. La sfida tra Bitonto e Cerignola non sarà l'unico appuntamento interessante della domenica di Serie D. Nel girone I il Bari, orfano dell'infortunato Floriano e ferito dell'eliminazione in Coppa in Flitterli dal Bitonto, ospiterà la cittanovese per riprendere la marcia in un campionato che l'ha visto fin cui brillare. Tornando al girone H, la capolista Tim Maltamura cercherà il terzo successo di fila sul campo del Granata Ercolano e la Fidelissandria andrà a caccia della prima vittoria in campionato sul campo del Francavilla. A completare il quadro dei match delle Pugliesi, la trasferta del Fasano sul campo del Picerno, quella del Gravina a Vallo della Lucania contro la Gelbison e le sfide interne del Taranto contro il Gragnano e Del Nardò con la Sarnese.